ripeto con un po' di sforzo l'operazione fatta con un video precedente dove ho tradotto il testo di questo blogger autore americano ecco adesso vi propongo questa altra meditazione, questa riflessione che lui fa su quelle che sono le vicissitudini ultime della Watchtower ovviamente potete essere d'accordo o no con quello che dice ma quello che porta è tutto basato su documentazione come al solito quindi credo che sia degno di essere ascoltato allora 5 fattori che stanno lentamente uccidendo dice l'organizzazione dei testimoni di Giovanni allora innanzitutto la non buona gestione degli abusi sessuali sui minori questa è una spina nel fianco dell'organizzazione da almeno 20 anni era il 2002 quando sono stati trasmessi due schiaccianti documentari in Inghilterra e negli USA che rivelavano questa problematica da allora abbiamo avuto scandalo dopo scandalo caso giudiziario dopo caso giudiziario documentario dopo documentario commento la percezione che il testimoni di Giovanni americano ha di questo è molto diversa dal testimoni di Giovanni europeo perché le cose avvengono proprio in casa lì leggono anche loro i newspapers cioè loro li leggono voi no quindi quello che viene filtrato è il 98% proprio il 100% dal sito sul sito non trovate mai nulla di queste notizie cosa che invece gli americani ripeto e molti molti di più rispetto a quelli europei riescono a leggere infatti ce ne sono anche parecchi di fuoriusciti lì insomma in America è tutto un bollirone insomma di entrate e uscite è un problema che non svanisce l'organizzazione sta fronteggiando uno smascheramento crescente anche dai governi e questo è il fattore cruciale fino ad un certo punto l'organizzazione può combattere i casi individuali può effettuare accordi a seconda del denaro che ha a disposizione ma quando si tratta di smascheramento governativo questo cambia i giochi l'abbiamo visto in Australia dove c'è stata la commissione reale australiana nel 2015 che ha portato ad un piano di risarcimento dal quale l'organizzazione non può sottrarsi anche se è stata recalcitrante fino all'ultimo dopo essere stata minacciata di vedersi sottrarre lo status di organizzazione caritatevole di charity cioè voi non volete aderire al piano di risarcimento nazionale per le vittime di pedofilia e noi vi togliamo lo status di charity è stata proprio minacciata insieme ad altre due organizzazioni recalcitranti nel aderire a questo piano tutto questo ovviamente Alice non lo sa direbbe De Gregori tutto questo siete voi Alice che siete ancora purtroppo del paese delle meraviglie perché vi fidate ciecamente di quello che questi otto ovviamente sono disposti a dirvi o non dirvi soprattutto a non dirvi se la Gochitower perdesse fondi considerevoli in questa occasione venendosi a togliere lo status di ente caritatevole e diverse esenzioni fiscali diventerebbe vulnerabile e per questo motivo è propensa a fare concessioni ma ciò nonostante non vuole cambiare comportamenti che mettono in pericolo i bambini perché dicono di doversi mantenere fedeli a Geova mantenendo fermo il principio che è del tutto arbitrariamente introdotto da loro cioè la dottrina dei due testimoni quando hanno altrettanto arbitrariamente applicato al caso della pedofilia il versetto di Deuteronomio 1915 trascurando altri tra l'altro casi previsti in Deuteronomio che erano molto più consoni aggiungo io al caso della pedofilia cioè ad esempio la violenza di donna in campo aperto per esempio questa conciutaggine lentamente ma sicuramente sarà la rovina dell'organizzazione nessuna organizzazione vuole avere la reputazione di coprire l'abuso sui minori scrivono articoli ogni tanto scusate aggiungo qualcosa mi viene spontaneo scrivono sì articoli perché ritalici noi abbiamo sempre trattato molto bene nella nostra letteratura come si deve stare attenti per non incorrere in questi pericoli eccetera però poi la reputazione che ha è questa in America è questo non rinunciando ad un principio così discutibile che presuppone che l'aggressore di un bambino o una bambina abbia con sé un testimone della sua violenza anche se in alcuni casi come in alcuni paesi come gli USA i media sono lenti nell'esporre questa problematica e quindi i governi non si sono attivati tanto quanto in Australia e nei paesi bassi le cose cambieranno le nuove generazioni non tollereranno uno scenario dove un'organizzazione può conservare prove segrete su crimini di predatori sessuali che non siano trasmesse alle autorità per una sorta di referenza verso la religione particolarmente negli USA si lascia fare alle religioni ciò che vogliono non si entra troppo nelle questioni interne anche in Inghilterra c'è un atteggiamento simile queste nazioni per altri versi molto laiche sono molto rispettose dei meccanismi interni delle varie religioni e le amministrazioni governative non sembrano propense ad essere tacciate di avere la mano pesante con dei gruppi religiosi forse per non subire un colpo di coda dell'elettorato l'organizzazione sarà comunque costretta a pagare un prezzo per la sua testardaggine nel voler continuare a mantenere il suo atteggiamento l'abuso su minori è un fattore molto corrosivo volendo considerare la salute di questa organizzazione su lungo termine veniamo al classico tema dell'ostracismo questo è un altro atteggiamento che sicuramente diventerà impopolare agli occhi del grande pubblico l'organizzazione la considera una questione di lealtà anche se la stanno promuovendo solo dal 1952 quando cioè si introdusse la disassociazione poi nel 1981 l'hanno estesa anche i dissociati anche se una dottrina è relativamente nuova la considerano come un comando divino che prova la loro differenza dal mondo la loro pulizia la loro purezza non cambieranno questo atteggiamento anche se gioca al loro sfavore nelle mani dei giornalisti che lo trattano con una prospettiva critica anche se persone come me c'è l'autore del blog che scrive gli attivisti possono puntare il dito contro l'organizzazione accusandola di crudeltà e mancanza d'amore e responsabile di portare alcune persone al suicidio successi già tanto è pesante questa pratica sulla salute mentale delle persone anche questo atteggiamento potrà portare l'organizzazione ad una morte lenta in Belgio una corte ha condannato la Watchtower di aver violato o dimenticato di scrivere i diritti umani introdotto di discriminazione applicando l'isolamento sociale e l'ostracismo secondo la dichiarazione dei diritti umani l'articolo 18 chiunque ha il diritto sia di seguire una religione che di cambiarla senza andare incontro alla morte sociale all'isolamento da parte dei parenti sarà interessante vedere fino a che punto i governi in altre nazioni inizieranno ad accorgersi di queste pratiche dunque il broadcasting mi sembra strano ma io lo considero controproducente per le aspettative e aspirazioni del corpo direttivo quando il primo episodio di broadcasting fu trasmesso nell'ottobre del 14 ho prodotto un video affermando che questo era un autogol si erano cacciati nella trappola di produrre video e così facendo mostrarsi in una luce in cui molti fedeli non li avevano mai visti più il corpo direttivo si mostra più rischia che i seguaci si rendano conto di quanto siano ordinari ed illusi e non ispirati questi individui è interessante che guardando i dati numerici dei testimoni di Geva per i sei anni prima e di sei anni dopo l'inizio del broadcasting non sembra che la situazione si sia evoluta bene per l'organizzazione nel 2008 c'erano secondo il rapporto annuale circa 6.829.455 testimoni di Geva nel 2014 erano circa 7.867.958 cioè un 15,2% di aumento i numeri del 2020 sei anni dopo il broadcasting sono di circa 8.424.185 testimoni di Geva ricorderete che l'anno 2020 è stato storico perché dopo 42 anni c'è stato un reale decremento nei numeri comunque dal 2014 al 2020 c'è stato un incremento del 7% non è interessante siamo passati da 15,2% di incremento nei sei anni prima del broadcasting a meno della metà il 7% dopo il broadcasting questi sono numeri terribili se fossi il corpo direttivo guardarsi il broadcasting come un modo per combattere l'influenza di internet lo perdi ai testimoni di Geva che si stanno svegliando non sarebbero certi numeri incoraggianti ci si sarebbe aspettato almeno di mantenere lo stesso livello di crescita questo risultato non depone a favore del broadcasting quello che sta accadendo è che il CD è dipendente dal broadcasting come da una droga perché gli dà illusione di fama non dimentichiamo che questi sono uomini incredibilmente vanitosi sono condizionati dal loro ruolo nell'organizzazione a credere di essere molto importanti in qualsiasi parte del mondo vadano sono adorati sono trattati come individui meravigliosi anno dopo anno questo è destinato ad avere un impatto sull'autovalutazione di se stessi e gonfia illimitatamente il loro ego guardando i numeri dei loro ascoltatori che sono milioni si sentiranno soddisfatti e pronti a costruire il loro hollywood personale a ramapo ramapo sembra il nome delle patatine non si rendono conto però che questi numeri sono inevitabili dato che è parte integrante della loro religione guardare ed assorbire tutto quello che viene editato dai piani alti c'è questa illusione di fame e popolarità che sta ingannando questi uomini nel pensare che il broadcasting sta avendo un effetto positivo sull'organizzazione i numeri che dovrebbero guardare sono quelli che vi ho appena mostrato e che illustrano che effettivamente la crescita dell'organizzazione è caduta drammaticamente vado un po' avanti tanto questo testo ovviamente lo spedisco a chiunque me lo chiede la maggiore possibilità di accesso a internet internet sta diventando sempre più accessibile questo sta diventando anche questo un boomerang per l'organizzazione perché tutti vado un po' avanti così posso trovare informazioni su quasi ogni cosa un'organizzazione invece costruita per avere completo monopolio sulle informazioni che dà ma come dicevamo nell'altro blog in un altro video è come l'oceano non lo puoi recintare come diceva una canzone di Lucio Dalla quindi va proprio nella direzione diametralmente opposta cioè il controllo che non possono più avere perché più le persone hanno accesso su internet e più potranno fare confronti e più saranno consapevoli nella scelta come dico sempre di restare o non restare in questa organizzazione c'è oggettivamente poi un ridimensionamento in atto c'è un ridimensionamento perché perché è tutto collegato ai fattori precedenti sta affrontando relazioni pubbliche negative questo è una organizzazione che continua a dire di questo autore è costruita per il ventesimo secolo sta facendo una fatica enorme in questo ventunesimo secolo proprio grazie a tutta questa mole di informazioni che stanno mettendo in luce tanti meccanismi interni come si concilia questo ridimensionamento con quello che hanno sempre affermato che ci sarebbe stata questa una continua espansione quando ci si renderà conto che questo non è vero potrebbe essere un catalizzatore per una certa dissonanza cognitiva che porti a un risveglio completo forse questa non è la religione che ti è stata presentata anche tu che mi stai ascoltando che stai leggendo che stai affrontando uno studio biblico che magari sei stato accostato in un momento di sfiducia di scoraggiamento di un lutto la perdita di un lavoro non è l'organizzazione di Geova forse ma una delle tante organizzazioni fatte da uomini che affatica che fa fatica nella data di internet perché i suoi insegnamenti possono essere sfatati a seguito di un attento esame scusate la lettura un po' veloce ripeto mando questo testo a chiunque me lo chieda nella mail che magari scrivo anche qui direttamente potete scrivermi quando volete rispondo a tutti appena posso buona continuazione di ricerca vi prego non perché a me me ne viene nulla io ci perdo solamente dei soldi a fare questa questa attività perché spendo dei giga tempo soprattutto più che giga il tempo ma anche giga quindi quello che possiamo fare è solamente per cercare di aiutare altre persone come voi e aumentando le iscrizioni si garantisce una maggiore diffusione di questi video quindi se volete iscrivetevi al canale tu che mi stai ascoltando per la prima volta iscriviti e fai conoscere questi contenuti è il modo migliore per rendere meno insomma inutili le fatiche che stiamo facendo grazie sempre dell'ascolto